GF VIP, la domanda di Nikita Pelizzona Lamborghini e Giorgio Ciupilan, non confessano. Il GF VIP è terminato ormai da un po' di tempo, ma i vipponi continuano ad essere sotto i riflettori. Infatti, ieri sera, per gli ex concorrenti del Grande Fratello VIP, c'è stata una serata all'insegna del divertimento. Erano presenti alla festa Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, Davide Donadei. Attilio Romita, Luca Salatino, la vincitrice Nikita Pelizzon, ma anche Giorgio Ciupilan e Ginevra Lamborghini. Ma, una domanda di Nikita a Giorgio e Ginevra ha subito catturato l'attenzione dei fan. Ragazzi ho una domanda, ma la ship, ha chiesto la vincitrice. Nikita Pelizzon, tra le sue Instagram Stories, ha dato voce a una curiosità per capire se si è infondata oppure no, il filtra tra Ginevra e Giorgio. La vincitrice, durante l'esperienza al GF VIP ha sempre mostrato una particolare sintonia e confidenza con i due. Scusate ragazzi, ma volevo chiedervi, ma la ship? A rispondere è stata Ginevra Lamborghini, che sottolinea sorridendo, siamo solo amici. Friendship. Giorgio accanto a lei, ha subito sorriso e sorride ancora di più quando Nikita ha continuato a indagare, ma c'è qualcosa di più? Ditelo dai. E poi è concluso, ragazzi, non confessano. Entrambi hanno sorriso ma il dubbio è ancora aperto. Non ci resta che aspettare i prossimi indizi. 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 Grazie a tutti